Edil System SRL, prodotti e tecnologia per l'edilizia, è l'azienda specializzata nella vendita di vernici. In tonaci premiscelati, viene a trovarci in via Giuseppe Vitale, a Cava dei Tirreni. Ha riaperto oggi il plesso scolastico di via Alessandro della Corte in località Pianesi. L'istituto, di cui nei giorni scorsi era stata disposta la chiusura con un'ordinanza del sindaco Servalli per permettere la sanificazione di tutti gli ambienti a seguito della spiacevole scoperta della presenza di topi al suo interno, ha ripreso a svolgere regolarmente le attività scolastiche, ma ciò non è possibile affermarlo per tutti i bambini che lo popolano. Infatti, stando a quanto riportato da alcuni genitori che stamane hanno effettuato un sopralluogo al suo interno, gli ambienti della scuola presentano ancora residui di sporco e per questo i genitori, preoccupati per la salute dei loro bambini, hanno deciso di rimandare ancora il loro rientro solo dopo aver fatto chiarezza sulla modalità in cui gli interventi sono stati effettuati. Quindi, proprio in luce di ciò, i genitori hanno espresso la volontà di richiedere un incontro con il sindaco Servalli per fare luce sulla vicenda. Intanto rimane ancora aperto il caso relativo alla consigliera comunale Marisa Biroccino, che sabato mattina, dinanzi alla porta del garage della sua abitazione in località Pianesi, ha rinvenuto alcune scritte ingiuriose nei suoi confronti. Sebbene la matrice del gesto sia ancora oscura, non si esclude che esso sia riconducibile proprio alla vicenda della scuola dei Pianesi, in merito alla quale la consigliera si è esposta difendendo l'operato dell'amministrazione comunale. «Sono profondamente amareggiata per quanto accaduto», ha dichiarato Marisa Biroccino, «e spero che si faccia presto chiarezza sulla vicenda. Non saranno certo questi gesti, affermare la mia attività politica». A seguito della vicenda, tanti messaggi di solidarietà ricevuti dalla consigliera, da parte di tutti gli schieramenti politici e da semplici cittadini. Intanto continuano le indagini da parte della Polizia di Stato, a seguito della denuncia contro i gnoti per ingiuria, sporta da parte della consigliera Biroccino.